Si chiama mobilità elettrica e comprende quei mezzi di spostamento di ultima generazione che vanno ad elettricità come gli hoverboard o i famosi monopattini e che sono sempre più utilizzati per muoversi in città. Pochi mesi fa il Ministero dei Trasporti ha firmato il decreto che ha dato il via alla sperimentazione che mira a promuovere il trasporto sostenibile di alta qualità soprattutto sotto il profilo ambientale. In Romagna il primo comune a buttarsi nel progetto è stato Rimini e ora tocca anche a Cesena. Con l'approvazione da parte della giunta di Palazzo Albornoz dal prossimo novembre sarà infatti possibile spostarsi a bordo dei nuovi mezzi elettrici che possono essere utilizzati sulla rete dei percorsi ciclopedonali, ciclabili e soprattutto sulle carreggiate delle zone 30, quei tratti di strada dove il limite è di 30 km orari. Un dettaglio questo non da poco, Cesena è infatti una rete tra le più ampie d'Italia e che nel complesso copre un percorso di oltre 200 km. Per ora la sperimentazione che inizierà a novembre coprirà solo il perimetro del centro abitato. Si partirà con quattro aree, piazza Almerici, piazza Moro, piazzale della Repubblica e poi piazza Campana dove si trova il nuovo campus universitario. Nell'attesa il comune sarà impegnato a regolare la circolazione con una precisa segnalettica come previsto dal decreto ministeriale e a predisporre delle specifiche zone di sosta. Per l'intervento è previsto un costo di 55 mila euro.